Carmen Consoli canterà da maestro concertatore della notte della Taranta 2016. Lo ha annunciato la stessa artista in conferenza stampa a Melpignano, accolta dai sindaci della Grecia Salintina, l'area dove nel 1998 è nato il festival che ha valorizzato ed esportato in tutto il mondo la nostra musica popolare. Sarà accompagnata la chitarra da Daniele Durante, direttore artistico, che in questi giorni ha avviato le prove con l'orchestra popolare sugli arrangiamenti già proposti dalla cantante siciliana. Nessuna anticipazione sui nomi delle ospiti nazionali e internazionali che saliranno sul palco di Melpignano. Non mi entusiasma chi sceglie la Taranta per fini commerciali, ha spiegato Carmen Consoli. Cerco contaminazioni nel senso federiciano del termine, dove culture diverse si incontrano, dialogano e tirano fuori qualcosa di nuovo che riguarda prima di tutto il cuore e la passione. Quando mi chiedono cosa porterò di nuovo alla Taranta rispondo nulla rispetto a ciò che è stato già fatto nel Salento nel corso degli anni. Ho attinto a piene mani dal repertorio del primissimo canzioniere grecanico salentino e ho trovato tecno, rock, elettronica, davvero di tutto. La preoccupazione della Taranta oggi non deve essere l'innovazione e la contaminazione nel senso dei suoni, ma contaminazione tra le sensibilità di chi sceglierà di unirsi a me, Daniele Durante, Luigi Chiriatti e l'orchestra popolare, per ridare nuova luce ai testi antichi. Si rispetterà molto il testo e il ritmo delle parole, ha evidenziato Daniele Durante. Le melodie saranno conservate, ma si faranno tappeti musicali che avranno colori ricontestualizzati in chiave pop. L'edizione 2016 sarà dedicata a Rina Durante, la scrittrice salentina che per prima avviò negli anni 70 il recupero del ricco patrimonio culturale del Salento, attivando percorsi di dialogo con gli intellettuali italiani. È un omaggio doveroso nell'edizione che ospiterà solo donne. Anche quest'anno, secondo le previsioni del sindaco di Melpignano, Ivan Stomeo, si prevede per il concertone del 27 agosto l'arrivo di 200.000 persone. Un motore turistico capace di attrarre nelle 16 tappe del festival ben 600.000 visitatori. Venite a respirare la Taranta nel Salento, ha detto Carmen Consoli, perché è qui che si comprende il valore e la modernità della tradizione musicale di questa meravigliosa terra.